collettiva che il mondo del lavoro può esprimere, una massa critica e cosciente a cui sarebbe difficile per certa politica nascondere le proprie debolezze e responsabilità o il prevalere dell'opportunismo sul bene comune, quale ad esempio affrontare con leggerezza il tema della legge elettorale e della governabilità. Ecco perché dobbiamo riuscire a divulgare le cose che facciamo e soprattutto spiegare il perché lo facciamo. Non a caso l'informazione e la comunicazione sono state oggetto di forte progettualità e di investimenti da parte della CISL piemontese col contributo delle nostre strutture territoriali. E infine grazie ad ognuno di voi delegati e dirigenti per la nostra militanza che ci impegna come intelligenze e come cuori. Siamo portatori di una cultura positiva che parla di inclusione, di solidarietà, di diritti. Una CIS che non ha mai avuto paura di dire la verità, anche quando era scomodo, e di difendere le proprie idee, a testa alta, perché siamo autonomi e liberi. Per i milioni di persone che si identificano nei nostri valori rappresentiamo una speranza, così come i nostri soci per noi sono la forza che ci sostiene e il motivo del nostro impegno. Grazie. Bene, grazie ad Alessio per lo sforzo e soprattutto per i messaggi e i contenuti della sua relazione. Grazie. Noi nel frattempo ci hanno raggiunto altri amici, altri erano già prenditi in sala, ma non li avevo salutati, bene scuso. Il particolare Massimo Tarasco, presidente delle Acpe del Piemonte, ci ha raggiunto il commissario della città della salute, avvocato...